Le speranze di ritrovare ancora in vita dopo due giorni e mezzo di ricerche, Giuseppe Marini si sono infrante poco prima delle 16 di oggi contro un guardrail lungo la scorciatoia che da Villa Brozzi sale verso Altavilla passando per Villa Vallucci nel territorio di Montori Alvomano. I vigili del fuoco hanno prima avvistato la sua Toyota rossa giù in un burrone profondo ricoperto di fitta vegetazione, motivo per cui finora né i droni né l'elicottero erano riusciti a notarla. Raggiunta l'auto poi i vigili del fuoco li hanno ritrovato all'interno purtroppo il 77enne Teramano di cui si erano perse le tracce lunedì pomeriggio dopo pranzo. Le ricerche dei vigili del fuoco e dei volontari si erano concentrate da stamattina lungo una scorciatoia che porta ad Altavilla. Qui infatti due telecamere di videosorveglianza private avevano immortalato il passaggio della Toyota rossa proprio lunedì e proprio pochi minuti dopo che Marini era stato incrociato da un residente di Villa Brozzi. Il 77enne era diretto ad Altavilla lunedì, aveva appuntamento alle 17.30 a casa della sorella ma non vi è mai arrivato. La salma è stata recuperata e trasferita all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo per autopsia e resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da ricostruire adesso con esattezza che cosa abbia portato l'uomo a perdere il controllo della Toyota e a finire fuori strada lungo un tragitto a lui noto e più volte percorso.